Parla in italiano con me. Io dico le frasi in blu, tu le frasi in verde. Inizi tu. È qui a Roma. Mi hanno detto che non è lontano da qui. Dopo il semaforo bisogna girare a destra o a sinistra. Non ricordo bene. No, non sono di Roma. Cercavo anch'io il Colosseo e mi sono perso. Aspetti, vengo con lei. Troviamo il Colosseo e poi andiamo a vedere qualche altra cosa bella qui a Roma.